Si è svolto domenica 27 gennaio presso la sala polifunzionale della provincia a Teramo l'incontro con la scrittrice Chiara Mirante, fondatrice e presidente della comunità Nuovi Orizzonti, in occasione della presentazione di Solo l'amore resta, autobiografia uscita il 23 ottobre 2012 che è già alla sesta ristampa. Per me il segreto della gioia ce l'ha donato colui che ci ha creato, per cui è stata un po' la scoperta della mia vita. C'è una frase del Vangelo in cui Gesù stesso ci dice qual è il segreto della sua gioia, ci dice rimanete nel mio amore, vi dico queste cose perché la mia gioia sia piena, amatevi come io vi amato. Per me non c'è un segreto più grande, lui precisa anche questo come, nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. E avendo sperimentato che vivendo questa parola c'era una gioia che fioriva nel cuore, fiorisce nel cuore, che resiste anche alle prove più dolorose della vita, è nato questo desiderio di condividere proprio la gioia di Cristo risorto con tante persone che cercano la gioia nelle vie che il mondo ci propone e che purtroppo spesso non solo non ti danno la gioia ma ti danno la morte del cuore. Quindi è nata un po' questa esperienza di nuovi orizzonti, questo andare in strada di notte, cercare da prima giovani in situazioni estreme come tossicodipendenza, alcolismo, carcere, AIDS, devianza, insomma 360 gradi. E poi questo scoprire, andando con loro risorti nelle scuole, scoprire che anche per i giovani cosiddetti normali c'è tanta tristezza, tanta depressione, tanta solitudine, tanta morte e quindi è nato anche tutto un impegno nella prevenzione, nella sensibilizzazione e nell'evangelizzazione. Grazie. 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 Grazie.